Allora, io avevo fatto la battuta a lei, vicepresidente, professora De Leo, vita viva, perché mi aveva colpito questo aspetto che poi è stato anche rimarcato dalla dottoressa. La vita viva si costruisce però per tempo, cioè siamo noi che ci stiamo costruendo una vita viva o non la stiamo costruendo, si parte sin da giovani e i giovani, punto di domanda, hanno una vita viva, come potranno averlo un domani gli anziani e cosa vuol dire? Perché ha tirato fuori questo termine? Beh, la sua domanda si presta a risposte diverse, ad angolazioni diverse. Adesso stiamo parlando per lo più di anziani, ma c'è una solitudine che può iniziare molto presto nella vita delle persone, anzi siamo convinti che anche da bambini si avverta molto forte il senso di solitudine, di estraneità, di non partecipazione. Poi oggi stiamo vivendo drammaticamente questo fenomeno di matrice giapponese che si chiama Ikikomori, questo fatto di ragazzi che si isolano nella loro stanza con il computer, non escono più dalla stanza, perdono quelle poche connessioni che avevano, i familiari in qualche modo diventano partecipi di questa situazione, addirittura somministrando i pasti, lasciandoli davanti alla porta. Sessi complici praticamente, la sottovalutano tantissimo. Il suicidio avviene molto di frequente in queste persone che sono completamente, pur connesse via internet a tutto il resto del mondo, sono completamente deconnesse da tutto il mondo vivo, dal mondo non virtuale, per cui difettano di qualsiasi capacità relazionale, di qualsiasi prospettiva lavorativa, professionale, futuro, eccetera. Se poi dovessimo parlare di caregiving, di attenzione, di assistenza alle persone ammalate, alla disabilità, eccetera, dovremmo abbracciare un universo veramente molto largo in cui sicuramente si vive molto da soli o in compagnia della persona ammalata. Non è chiaro quanta sia poi la quota di solitudine per come ne stiamo parlando adesso, ma sicuramente l'isolamento, la perdita di lavoro, la perdita di relazioni, la perdita di opportunità della vita, lo scadimento della qualità della vita delle persone che sono caregiver di dementi, ma anche caregiver di persone disabili, di persone che hanno subito incidenti gravi, eccetera, le stesse persone disabili poi vivono da sole per grandissima parte del loro tempo, quindi abbiamo tutta una serie di individualità che possono essere soggette a soffrire. Caregiving può arrivare anche a delle situazioni estreme, perché non sono di certo infrequenti le tentazioni suicidarie delle persone che vivono questa assistenza senza fine, apparentemente continua, senza ricambio, senza soddisfazione, e questo oltre ad essere defatigante è anche molto frustrante, quindi aggiunge sofferenza alla situazione già difficile. Si arriva anche a distinti omicidari che vengono espressi. Come dicevo la cronaca parla... Esatto, non sono infrequenti i casi di omicidio e suicidio, sono tutte situazioni che non vedono uno sbocco, in cui le persone ad un certo punto preferiscono il gesto estremo, apparentemente insano, ma molto spesso meditato a lungo, in realtà, in cui la soluzione viene a coincidere con la fine delle sofferenze che si immagina per la persona che è affetta dalla demenza o dalla grave disabilità o comunque dalla malattia invalidante e per il suo assistente o la sua assistente. Quindi sono cose che occupano molto spesso, no? Le cronache dei giornali e ci si chiede che cosa si potrebbe fare altrimenti in queste situazioni che magari sono anche quelle in cui l'assistenza sociosanitaria potrebbe fare di più. E questo è un altro aspetto, infatti, in realtà, più che scaricare sul privato. Infatti, hai toccato il tema del suicidio e dell'omicidio, che adesso noi sentiamo quotidianamente, per carità. C'è stato il periodo in cui molti imprenditori si sentivano soli, una solitudine profonda, lamentata, e si toglievano la vita per cercare... Per che cosa, poi alla fine, perché tanti si chiedevano alla famiglia, che ne restava, ma per che cosa è successo tutto questo? Eppure una profonda solitudine. Voi, esperti, avete analizzato questo e ci sono emersi dei risvolti. Ma cosa succede nella mente della persona che porta gesti estremi? La persona anziana, e abbiamo la cronaca che ci parla di casi, la persona meno anziana, che si sente comunque sola, o il giovane, come diceva lei, il professore De Leo, che cosa succede? Diventa una patologia oppure no? Sulla definizione di patologia io mi asterrei perché è molto delicata. Ma quando non c'è più la rete intorno, a qualsiasi età, uno non sa più dove appoggiarsi. È proprio una questione, se vuole, anche fisica. Il caregiver, come prima diceva il professor De Leo, che intorno non vede più nessuno, i familiari sono spariti, i vicini sono spariti, dove si appoggia nel momento in cui ha il desiderio, la necessità, l'esigenza drammatica di avere un quarto d'ora di riposo? Dove si appoggia? Quando il paziente di cui io mi occupo come caregiver è apatico. Noi sappiamo da tutta una serie di studi molto significativi, che il peggiore atteggiamento da parte del malato nei riguardi del suo caregiver è l'apatia. Perché io preferisco avere a che fare con uno che si muove, che aggredisce, che però ha un minimo di relazione, anche se affetto da demenza, che non con la persona apatica. Perché l'apatico non mi dà nessun tipo di relazione. È come al cadere in questa situazione, vuoi l'apatia, vuoi lo stato in cui uno decide di togliersi la vita in un modo o nell'altro, c'è qualche meccanismo che scatta, che si potrebbe evitare? A monte si potrebbe evitare? Si potrebbe evitare se noi offrissimo un minimo, se quella rete di cui parlavo che si era slabbrata, scucita. Quindi è la rete che viene a mancare, non a livello fisiologico, una degenerazione, non sappiamo. Gli aspetti fisiologici li conosce meglio il professor De Leo. Io sostengo che la rete che si slabbra, pensi alle nostre periferie, alla persona anziana che vive in periferie slabbrate, come diceva Renzo Piano, quando diceva che dobbiamo rammendare le periferie. Io credo che sia un discorso che vale moltissimo anche sul piano clinico, anche sul piano di ricostruire la vita delle persone sole. Se uno scende di casa non trova nessuno, non ci sono più i negozi, trova spesso nelle periferie, c'è violenza e non c'è ascolto. È chiaro che quella è la strada per l'inizio di una disperazione che poi porta, da una parte la malattia, l'abbiamo detto, alla demenza, ai disturbi cardiovascolari, a ridurre il tempo stesso di vita e dall'altro anche in tenuti individui particolarmente fragili a compiere atti autodistruttivi. Assolutamente. Professor Calabro, anche la paura, la paura fa parte molto integrante della persona anziana, no? Certo. E quindi uno stato di insicurezza generale, sia per la degenerazione che avviene a livello... C'è la paura dell'ignoto, sostanzialmente, la paura del tuo futuro, la paura della malattia, la paura delle condizioni che possiamo immaginare semplicemente tutti e la paura di non farcela affrontare tutto questo. E quindi... I suoi pazienti, l'hai riscontrato nelle persone che ha seguito questo sentimento di paura che poteva essere pericolosa, tra virgolette? Ma, sai, io non riesco a identificare bene nel paziente il concetto di paura si è tolto da quello che è classica paura di fare un'indagine, paura di fare un intervento. Quello che è preoccupante è la paura di uscire dall'ospedale. La paura di uscire dall'ospedale significa che quello che tu pensi di trovare fuori dall'ospedale non è un posto che ti accoglie come tu vorresti. E quindi il desiderio di restare ricoverato 5 giorni di più, 4 giorni di più, 10 giorni di più... Di stare al sicuro, no? Di essere in un ambito protetto. Quella può essere paura nel senso più drammatico del termine perché non hai paura di un evento hai paura di rientrare nella tua vita e quello sì, è un segnale grosso e quindi il rammendare è cruciale. Assolutamente. Dottor Pavan... La prima si stava nel chiedere ma c'è un interruttore a un certo punto nel cervello che scatta, no? per cui una persona si suicida ma lo ha detto prima bene il professor Deleio quando diceva quando la sofferenza diventa insostenibile il suicidio diventa la liberazione. L'unica soluzione. Diventa la liberazione. Allora il professor Trabucchi ricordava ma se io attorno a questa sofferenza potessi mettere delle ciambelle delle situazioni, eccetera, no? Allora potremmo ridurre la sofferenza non dico eliminarla ma ridurre la sofferenza sì perché della tanta sofferenza possiamo agire insomma per cercare di ridimensionarla. Mi collego a un amico Massimo Calabrò per dire intanto faccio un inciso sulla geriatria di prima perché io non so quanto ringraziare la geriatria che mi ha insegnato tanto perché per dirla in termini brevi la geriatria ha spostato l'interesse dalla patologia alla persona. Ha fatto una rivoluzione copernicana nella medicina dall'organo alla persona quindi sei obbligato quando fai una valutazione multidimensionale ti interessi della persona non dell'organo ma dell'organo nella persona e questa è poesia per chi si occupa di anziani è è veramente il giro di pagina è neanche è il cambiare libro proprio è il cambiare libro è una rivoluzione e quindi grazie alla buona geriatria che ci ha insegnato tutte queste cose e tornando però alla paura e al disagio ci sono le morti bianche negli anziani un anziano ricoverato in una struttura contro la sua volontà che non vede possibilità di vita che gli vengono meno i valori di una vita per la quale ha vissuto ha combattuto ha lottato ha lottato e allora è interessante capire qual è lo spazio di sopravvivenza all'interno delle strutture proprio perché le persone si suicidano lentamente insomma si lasciano andare si lasciano andare non ha più ed è per questo che tutto il tema della virgolette istituzionalizzazione che è una parola bruttissima quasi come medicalizzazione la istituzionalizzazione è un argomento sul quale bisogna ragionare noi non siamo e non vogliamo essere magazzini per vecchi per corpi vecchi da rotamare non vogliamo siamo luoghi di vita dove la possibilità dell'autodeterminazione deve essere lavorata insieme con la famiglia ma di fatto non bisogna non bisogna ingannare l'anziano dicendogli che va a fare un mese di fisioterapia la famiglia deve assumersi le proprie responsabilità e trattare le persone con la dignità che meritano una persona che vive 80 anni che ha lavorato una vita che ha che ha cercato con tutti i suoi difetti ma anche con tutti i suoi pregi di allevare dei figli di contribuire al benessere della famiglia e anche della società ha il diritto di essere trattato come persona e se non abbiamo il coraggio bisogna farcelo venire come servizi e come famiglie che accompagnano questo percorso perché se le famiglie pensassero ai nostri luoghi di vita noi a Treviso non li chiamiamo nemmeno più ospiti li chiamiamo residenti perché l'ospite puzza dopo tre giorni ed è una cosa temporanea è un residente è il suo luogo di vita però è adatto anche logisticamente e le tirò di più certo che è adatto logisticamente le strutture che non sono adatte logisticamente devono chiudere devono chiudere allora tutto ciò che riguarda noi dobbiamo lottare a favore dell'autodeterminazione dell'autonomia fino all'infinito persino alla fine della vita di una persona la qualità della vita che è il nostro summa insomma il nostro punto di riferimento è la nostra sfida continua ma per chi è ancora cognitivamente presente per chi ha problemi funzionali per chi ha problemi di demenza per chi è fin di vita perché morire soffocati dal dolore non è la stessa cosa di morire leniti dal dolore e magari con una mano che ti accompagna in questo percorso allora questi sono i significati che bisogna comprendere e i nostri luoghi sono luoghi di vita e devono diventarlo tutti potrebbero essere anche luoghi di terapia per i cittadini che corrono 200 all'ora perché lì si va piano e magari si recupera qualche dimensione della vita sulla quale magari si può riflettere se posso aggiungere a questo un po' un tema al quale in qualche modo che abbiamo circondato così sempre rimanendo un po' i mardigini è proprio un tema grande che è quello della dimensione culturale e dello stereotipo che noi abbiamo degli anziani intanto perché non c'è di peggio che di avere l'idea di un'anzianità che è un'anzianità che porta solo alle imitazioni che porta solo alla dipendenza che porta solo alla rigidità mentale e non c'è di peggio poi dell'anziano che inizia a pensare di se stesso questo infatti l'anziano invecchia male quando inizia ad attribuire tutte quante le proprie difficoltà mancanze al fatto che lui è vecchio e quindi il contrasto lo stereotipo deve essere portato avanti all'infinito e poi da parte invece del resto della società e per questo dico che c'è un cammino molto lungo da fare noi dobbiamo però in qualche modo renderci conto che la cultura in cui viviamo dell'individualismo della produttività del successo dell'autonomia e l'idea e l'idea della qualità di vita come sempre solo autodeterminazione questa è una cosa su cui io insisto sempre quando parlo delle persone che invece hanno un deterioramento cognitivo è altrettanto pericoloso perché se io come qualità di vita ho in mente il benessere generale oppure il fatto che posso autodeterminarmi produrre ancora così e poi penso ad alcune condizioni psicopatologiche insomma penso a un deterioramento cognitivo com'è che io abbino questa mia idea di qualità di vita con questa condizione e quindi secondo me vanno recuperate tutta una serie di altre dimensioni della persona che vanno rapportate più alla quotidianità quindi qualità di vita è anche guardare un fiore e incantarsi davanti a un fiore di una foglia per un'ora anche se non mi ricordo il nome di mia figlia e del mio vicino però questo è un passo molto avanti culturale che dobbiamo fare ma è necessario farlo perché altrimenti se non cambiamo questa idea di qualità di vita di qual è il concetto della qualità di vita non tutti ci staranno dentro e anche quello che è il concetto di dignitoso non dignitoso loro potrebbero insegnarci tanto le persone che vivono in questo tempo diverso io vi butto la domanda andiamo in pubblicità è fattibile questo cioè si può arrivare anche a questo quindi recuperare delle dimensioni insegnare già prima a recuperare delle dimensioni per non arrivare poi a situazioni di generazione di pericolo è quello che ci stiamo sforzando di fare insomma l'associazione italiana di psicogeriatria ha creato questa giornata nazionale per la lotta alla solitudine ha fatto un congresso prima di tutto multidisciplinare quindi c'era il filosofo c'era lo scrittore il giornalista il medico il demografo insomma una prospettiva la più ampia possibile e poi effettivamente quello che all'inizio almeno si vuole dire e dare è fornire consapevolezza dire guardate che questa è una situazione pericolosa la solitudine guardate che bisogna aumentare la nostra cultura sul come combatterla la solitudine bisogna prepararci cognitivamente a questo adottare degli stili di vita che favoriscano la lotta alla solitudine quindi il suo evitamento migliorare proprio le caratteristiche intersociali degli individui abbiamo un nemico potentissimo purtroppo che ci ostacola che è internet perché noi siamo convinti di essere sociali con questi media ma in realtà finiamo per essere sempre più soli no? e quindi dobbiamo ricordarci che non c'è un succedaneo della fisicità del contatto con le persone della confidenza con le persone e quindi questa cosa va stabilita va sancita va ricordata alle persone e soprattutto vanno cercate quelle situazioni che possano migliorare la qualità della vita di tutti ma per migliorare la qualità della vita non bisogna promuovere attività individuali bisogna promuovere attività collettive quindi le esperienze più recenti e più interessanti il co-housing per esempio il co-abitare assieme oppure a un livello meno tecnico di questo le persone anziane io ho vissuto molti anni all'estero per cui ho visto tante volte amici anziani giunti a una certa età andare ad abitare assieme ma senza problemi di sentimentalismo che paesi erano? all'Australia per esempio le persone anziane si scelgono una bella casa se possono ma anche una casa più modesta però dividono le spese stanno assieme si fanno compagnia pur avendo degli spazi limitati hanno degli spazi comuni quelli che hanno un po' più di possibilità si affittano una persona che faccia loro le pulizie o che faccia loro da mangiare che comunque è diviso per tanti certamente però questo è un modo perché sa modelli di assistenza per l'anziano sono innanzitutto mutevoli non dobbiamo pensare a niente di fisso poi ognuno ha vantaggi e svantaggi quello che in passato immaginavamo di grande successo non si è dimostrato così tanto di successo e rimane un problema molto importante quindi tutti noi vorremmo invecchiare in grandissima salute e morire all'improvviso dopo aver preparato tutto quanto ma per pochissimi di noi questo è possibile per cui l'educazione la preparazione il processo di consapevolizzazione di questo diventano imperativi categorici se veramente vogliamo fare qualche cosa di utile prima che sia troppo tardi prima che si debbano cercare rimedi che non sono gli rimedi ideali ma sono surrogati di situazioni che invece desidereravamo avere certo torniamo su questi temi do la parola anche a lei vorrei anche sottolineare il fatto del problema della degenerazione che ci può essere a livello mentale quindi una mente che non è più quella di prima e ci sono problemi conseguenti e tante volte l'anziano si trova in queste condizioni per anche seguito di problemi fisici quindi c'è una serie di decadimento generale e poi chiuderemo naturalmente con possibili soluzioni già accennava il professor Deleio cosa potrebbero essere quanto invece attualmente si scarica sulla famiglia si tende sempre più a scaricare sulla famiglia e quanto invece dovrebbe farsi carico l'apparato istituzionale se questo è possibile oppure se secondo i nostri esperti questo non è possibile o non è risolutivo di un problema tra pochissimo dopo la pubblicità grazie a tutti